Gentili telespettatori, buona giornata. Beppe Grillo dice che Giuseppe Conte porta al Movimento 5 Stelle una crisi di consenso che deriva da una crisi di identità e rivendica il nome del suo ruolo di garante e dice praticamente più che il garante io sono il guardiano. Allora, crisi di consenso che deriva da crisi di identità. Nel Movimento 5 Stelle c'è una crisi di consenso? In realtà no. Il Movimento 5 Stelle alle elezioni italiane ha il 16-17%, alle regionali ha il 10-12, l'8, l'5, alle europee avete visto che aveva il 9-99. Questo significa che il Movimento 5 Stelle è formato da tante persone che quando si vota in Italia votano per i 5 Stelle perché sperano nel ritorno del reddito di cittadinanza, quindi voto di scambio, mentre alle regionali non esiste il reddito di cittadinanza, alle europee meno. E così il vero, la vera percentuale dei grillini va dal 5 al 10%, massimo, dal 5 al 10. Però quando ci sono le elezioni in Italia vanno a votare per il Movimento 5 Stelle non perché gliene freghi qualcosa di Grillo, di Conte o di chissà che, solo per la speranza che ritorni il reddito di cittadinanza. Quindi in realtà non c'è una crisi di consenso, o meglio, c'è una crisi di identità. Oggi il Movimento 5 Stelle è il reddito di cittadinanza, tutto lì. Come o me lo definite il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è uguale reddito di cittadinanza, tutto lì. La sua identità è questa oggi, è il partito del reddito di cittadinanza, è il partito dell'assistenzialismo e basta. È il partito di quelli che vorrebbero essere mantenuti dallo Stato e magari continuare a lavorare in nero, o semplicemente non lavorare. Perché io, se vivessi in Campania e avessi la possibilità di prendere il reddito di cittadinanza 700 euro, invece di andare a lavorare per 400 euro tutto il giorno, tutto il mese, io sceglierei il reddito che c'è scritto qua, fesso. Se devo scegliere tra andare a lavorare sfruttato per 400 euro al mese, oppure stare a casa, guardarmi Maria De Filippi in televisione e addormentarmi e prendere 700 euro, scusate, voi che cosa scegliereste? Non mi venite a dire che il lavoro nobilita? Ma smettetela, smettetela. Non stiamo a raccontarci la storia di Babbo Natale. Noi tutti, se avessimo un bivio, vuoi che ti mantieni lo Stato a 700 euro o vai a lavorare tutto il giorno per 500 euro? Non raccontiamo le favole. Quindi l'identità del Movimento 5 Stelle è la speranza del ritorno del reddito. Anch'io se vivessi in delle zone depresse dove mi pagano 500 euro al mese in nero se lavoro, anch'io spererei nel ritorno del reddito di cittadinanza, parliamoci chiaro. A questo punto però Grillo rimprovera Conte perché è colpa sua se c'è una crisi di identità e una crisi di consenso. Caro Giuseppe Detto Beppe Grillo, perché lui si chiama Giuseppe Detto Beppe, caro Detto Beppe, Conte non è un grillino, Conte non sarà mai un grillino. Volevi un'identità diversa? Volevi che il Movimento 5 Stelle tornasse a un'identità che aveva prima? Allora dovevi prendere Di Battista e lo mettevi a fare il capo dei 5 Stelle. Lasciavi Gigino Di Maio o Ministro e gli facevi fare quello che fa, quello che faceva. Mettevi Laraggi, mettevi Toninelli, insomma Toninelli è un grillino. Quello che dice Toninelli oggi nelle sue dirette rispecchia quello che sono gli elettori, il grillismo. Non mi puoi mettere il professore universitario Giuseppe Conte, avvocato, a fare il capo dei Toninelli. Non so se mi sono spiegato. Toninelli è un vero grillino. I grillini sono dei Toninelli, sono dei Di Maio, sono delle Raggi, dei Di Battista. Non mi puoi mettere Conte a fare il capo dei Toninelli, perché non ci azzeccano. Conte non è come Toninelli e Toninelli non è come Conte. Chiaro o no? Quindi quando Giuseppe detto Beppe Grillo dice a Conte che c'è una crisi di consenso che deriva da una crisi di identità, è caro mio Grillo, l'hai messo tu Conte, lo sai perfettamente che l'avvocato Conte non c'entra niente con i Toninelli. Adesso mi viene a dire che è colpa sua. Lui fa quello che può. Lui è quello che è. Lui è il Giuseppe. Ma anche se è il Giuseppe, come diceva il Presidente degli Stati Uniti, Giuseppe, vieni qua, vieni qua, Giuseppe. Giuseppe? 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 I stessi, fai i stessi, Giuseppe. Ecco, come lo chiamava così Giuseppe? Il nostro caro Giuseppe non è e non sarà mai un grillino. A volte fa finta di esserlo, dice delle cose che fa finta di essere un grillino, ma non è un grillino. Non lo è. E così lui dice, ma no, lui deve dare una nuova identità. Ecco. E poi aggiunge, ha preso più voti Berlusconi che non c'è che Conte, disse dopo l'Europee. Iperboli decontestualizzate e strumentalizzate. Nessuno è più ridicolo di chi prende una battuta sul serio. Tuttavia, penso sia diventato necessario sfatare le nostre presunte divergenze. E poi aggiunge, è stata l'agenda Draghi a farci dare problemi, non indugiare in un passato che non ritorna. E dice, respinge l'Assemblea Costituente, dice, nessuno mette in discussione il tuo ruolo, ma con grande schiettezza ti dico che non posso accogliere la tua proposta di discutere preventivamente i temi da sottoporre all'Assemblea Costituente. È una richiesta diametralmente opposta al progetto e allo spirito che mi ha spinto a indirla. Lasciamo sia la nostra comunità a interrogarsi sul suo futuro. È qui il punto. Grillo non vuole una comunità democratica, vuole decidere lui. Non vuole che decidano gli elettori grillini. non è una comunità dove la base decide. Decide la cima, decide lui. Altro che il partito di tutti, dove tutti decidono, tutti partecipano. No, assolutamente no. Grazie a tutti e arrivederci a presto.